Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul canale, sono TheWolfFlayer e oggi siamo in un nuovo video Adesso inizierò, sempre se questo video raggiungerà i 15 like, delle top 5, 10, non lo so, delle top Comunque, non so più parlare, non sono abituato, non faccio video da un fottio di tempo, sorry Sempre e comunque, questa top è degli youtuber che seguo da una meriede di tempo, da tantissimo tempo Quelli con cui, non so se con nessuno mi ci sono mai sentito, magari Però, quindi, spero che questo video vi piace, buona visione Non avete capito niente, sentite, ok, non so parlare, è passato troppo tempo da quando non faccio video, ok, ok, va bene Grazie a tutti 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 Grazie a tutti